Questa dichiesa, più che delle trattative di calciomercato, sembra che sia diventata una telenovelas. Il tutto è incominciato con Giuntoli che ha proposto all'ex Viola un contratto a ribasso rispetto ai 5 milioni percepiti. Ricordiamo che la grossa incognita è sicuramente il fatto che il giocatore va in scadenza a giugno 2025. La società insomma rischia fortemente che il giocatore lasci a zero come Rabiot o come probabilmente accadrà con MC Kenney. Anche lui rifiuta di firmare il contratto alle condizioni proposte dalla Juventus. Oggettivamente non sappiamo nemmeno a quanti club è stato proposto Chiesa come possibile scambio. Manchester United per Sanco e Greenwood, Bayern Monaco per Adeyemi, Inter per Frattesi eccetera, tutte trattative naufragate o durate quanto il titolo di un giornale. Risultato Chiesa è ancora Torino, nonostante che ci ha Giumotta e Giuntoli gli abbiano fatto capire che non fa più parte del progetto Juventus a nessun titolo. Insomma che se rimane a Torino farà un anno da panchinaro o quasi. E non abbiamo parlato tanto per questo è veramente quanto lo aspetta. Ieri sera vi abbiamo parlato dell'incontro Ramadani-Ghisoldi a Roma in tempo reale. Onestamente non gli abbiamo dato grande importanza dato che insomma ormai i rifiuti di Federico Chiesa a trasferirsi da Torino stanno diventando una gigantografia. Infatti non è un mistero che si crede che il giocatore voglia lasciare il club a parametro zero il prossimo anno in direzione Pinettina. Insomma che abbia un accordo sulla carta con Marotta. Certo che se veramente Giuntoli tenesse fede alle veline che trapelano dalla continassa, ossia che in caso di mancato accordo il giocatore vedrebbe il campo con il lumicino, difficilmente lo stesso giocatore potrà chiedere a Marotta uno stipendio superiore ai 5 milioni che percepisce adesso. Tutte ragioni che non ci hanno portato a prendere in particolare attenzione quello che stava succedendo a Roma e forse abbiamo fatto male. Infatti le fonti romane ci raccontano che questo incontro Ramadani e Ghisolfi sarebbe stato particolarmente fruttoso. Stamattina infatti sarebbe arrivata alla continassa un'offerta di acquisto per Federico Chiesa dalla Roma di 15 milioni pagabili su tre annualità e della cessione a titolo definitivo di Stefan e il Sharawi. In più la Roma sarebbe disposta a pagare a Federico Chiesa uno stipendio comprensivo di bonus legate alle sue prestazioni sportive di quasi 6 milioni di euro. E non è un particolare mistero che ci ha giumotta a veda di buon occhio e il Sharawi per il suo gioco. È ovvio che essendo arrivata la proposta dopo l'incontro Ramadani-Ghisolfi, il giocatore questa volta potrebbe essere propenso ad accettare la cessione, anche perché fare un anno da panchinaro credo che non ha lieti nemmeno lui. In aggiunta che a una settimana o poco più dall'inizio del campionato, nessuna delle parti in causa sembra intenzionata a scherzare. Sarà questa la volta buona? Ovviamente la cessione di Chiesa riaprirebbe e non poco il calcio mercato della Juventus nei giorni del Condor, anche se oggettivamente ieri per Cassi abbia fatto chiaramente capire che Kupemainers non si muoverà da Bergamo. Al contrario, le trattative per Gonzalez e Todibo sono in fase molto avanzata di trattativa. A questi giocatori molto probabilmente se ne aggiungerà un altro.